Si amplia ancora una volta l'offerta delle iniziative sportive nei nostri parchi cittadini e quindi si continua con questa scelta di utilizzare i luoghi della città come luoghi che possono promuovere i salisti di vita, il benessere delle persone e possono farlo anche attrezzandoli di esperienze, di competenze, di struttori che possono aiutare le persone a svolgere diverse attività. Ed è anche l'occasione per conoscere anche nuove attività sportive, nuove pratiche sportive che magari sono più difficili a conoscenza e che stanno ogni anno di più aumentando e qualificando il cruscotto delle possibilità e delle opportunità per le persone. Dieta e movimento sono le due facce della medesima medaglia nel senso che tutta una serie di dismetabolismi causano le malattie per evitare queste patologie tipo colesterolo alto, la pressione alta, il sovrappeso che affatica il cuore. Dobbiamo essere ovviamente molto attenti a quello che mangiamo nel senso che io dico sempre poco di tutto, cioè quello che fa più paura non è tanto la qualità quanto la quantità delle cose che mangiamo e fare attività fisica perché mantenere ovviamente la pompa cardiaca in attività ci allunga la vita. L'attività che WISP andrà a proporre nei parchi è fitness dolce, quindi un'attività adatta a tutte le persone di ogni età e soprattutto adatta alle persone che hanno voglia di stare in compagnia perché sarà anche un momento di socialità all'aperto dove cercheremo di stimolare le persone al movimento. Saremo presenti al Parco dei Cedri, al Parco di Cabura e all'ex velodromo. Grazie. Grazie. Grazie.